bestiacce le incredibili avventure di sam colam e del professor pico pane di pino pace e giorgio sommacal edizioni giralangolo pinguistrice istrix antarticus il pinguistrice è una specie di pinguino che vive al polo sud in branchi di migliaia di individui è alto quasi quanto un uomo e le spine che gli adornano il dorso servono a difendersi dalla terribile foca leopardo quando c'è una bufera di neve per trattenere il calore i pinguini si stringono tra loro il pinguistrice con tutte quelle spine ha imparato a stringersi mettendosi faccia a faccia a gruppi di quattro per stare così dei mesi bisogna andare molto d'accordo ha detto il professore per questo nelle radure polari popolate dai pinguistrici si possono vedere i caratteristici cespugli formati da quattro pinguistrici il problema è quando si alza il vento e i cespugli rotolano qua e là sul ghiaccio non deve essere un gran divertimento sono animali intelligenti e curiosi ci hanno studiato per giorni beccavano i nostri piumini mangiavano le nostre provviste ma sono anche molto altruisti una notte si è alzata una bufera di neve la tenda se l'è portata via il vento eravamo spacciati quando due di loro ci hanno offerto di stringersi con noi io con quelli non ci vengo hanno l'alito che puzza di pesce gridava il professor nella tempesta ma alla fine sono riuscito a convincerlo io il prof i due pinguistrici siamo stati faccia a faccia e abbiamo rotolato sulla banchisa per due notti e due giorni ma siamo sopravvissuti il guaio è stato dopo a togliere le spine ahi